Ciao, sono Cinzia Labarile e ho 25 anni. Per la seconda edizione del concorso musicale internazionale Friends on Music di Bernarda Matera, appartengo alla categoria E-Solisti. Il mio programma di esecuzione è il seguente. Comincio con una fantasia in do minore, la 906, Nijuan Sebastian Bach. Lo seguo poi con uno studio di Alexander Scriami, opera 8, numero 2, e per concludere il notturno di Ottorino Respighi. Grazie, buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.